Per me Unisa è spazi verde e tranquillità. Sono uno studente fuorisede e amo la vita da campus. Grazie ai suoi servizi e le sue strutture come le residenze, la mensa e i centri sportivi riesco a coltivare le mie passioni e portare avanti il mio percorso di crescita. Per me Unisa è un luogo dove accadono cose, dove creo rapporti, legami, dalle aule alle associazioni. Poi c'è il campus così aperto che mi offre la possibilità di intraprendere percorsi multidisciplinari. Per me Unisa è passeggiare e condividere nuove esperienze con i miei colleghi. È un universo di opportunità. Grazie.